Salve a tutti ragazzi, io sono Pc64 e oggi continuiamo su Octodad Iniziamo Eccoci qua ragazzi Qua eccoci il nostro polipo preferito Andiamo con la sveglia Chiudi Lascia Andiamo Apriamo questa porta Devo muovermi Ho rotto tutto Ma non sai neppure passare una porta Lascia Restate calmi bambini Ok Buongiorno tesoro Bella giornata Quello Ora Quindi E se E' un po' E' un po' No, no No, no Non c'è un po' Aspettiamo L'acqua Vediamo che c'è Non c'è un latte Apriamo E' un po' Un po' Un po' non c'è nulla vediamo l'alai c'è tutto ecco c'è il latte non c'è niente non c'è niente dai dacci questo aspetta vicino ma prendilo è in testa dai possiamo andare in giardino ok non c'è che non c'è non c'è non c'è non tieni pure la bocca come dice dinkle bell l'erba del vicino è sempre pulita o no ok facciamo dobbiamo prendere qualcosa ok apriamo stai apri questa causa rota prendilo come faccio prendilo toggi toggi prendendilo si andiamo prendiamile Oh, now I get it. What? They're like dollies. Some are for playing house, and some are for playing space dolly, and some... No, they're not. They're not like that. Watch for your mowing, honey. Well, I would mow the lawn, but I hurt my knee at basketball practice, and my elbow at baseball, and my foot, and... Okay, I'm gonna go to here, but... No, it's not that I'm going to go to here, but... What are you doing? I'm going to go to here. No. No. Vai, prendi. Taglia. No. Ehm... Ah, sono stanco. Pure to walk to that. Proprio no. Dai, togliamo solo del co***o questa cosa. Prendiamo adesso. Dai, lo prende. Queste cosi. Prendiamoci. Andiamoci. Prendi. 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 Lascialo. Prendiamo. Lascialo. E prendiamo. Lascialo. Tagliamo tutta la legna. Ci dà la nostra famiglia. Non so neppure tagliare la legna. Aspettate, raga. Ecco. Questo è il modo più semplice. Adesso lascia. Muovilo. Muovilo. Alza. E alza. Ecco. Segnò. Lascia. E taglia. Vai. Spacca nel muro. Taglia. No. Ecco. Ecco. Puta. Adesso lascia. 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 Prendi la tua legna. No. Non ci serve. C'è una tua legna. Vai. Prendila. Vai. No. Vai. Mettila qua. Asala. No. Ma che prendi a fare? Lascia. Ragazzi. Dragon Ball. È già pronto. Per essere fatto. Lo sto caricando. Col video. Dovete aspettare. Che abbiamo fatto. Cos'è quella roba? Non lo so. Non vedo un quattro. Ma che cazzo. Che cazzo ci fa? Mio. Mio figlio qua. Ragazzi. Sta dormendo nella sedia. Le maleducazioni. Eh. Bravo. Ecco. Pantacolo in testa. Eh. Non trovo altro cibo. Dove lo trovo? Ragazzi. Io vorrei dire una cosa. Questo. Non è un hamburger. È il cervello. È vero. Mi sembra uguale al cervello. Non è una. Aspetta. Dobbiamo cucerli. Ok. Dai. No. Il mio tentacolo. Il mio tentacolo. Ecco. Il mio tentacolo. Un po' ciò. Vai. Va. Ora adesso non mi sono andata. Vai. Vai. Patte. Vai. E' potuta. Ma mangia Che ci penso io? Ci penso io Maledessi di Kleber Come dicevo a vincere se siete in chistronzi E vero? Rompi E' elevata Beccati questo tentacolo in faccia In pochi minuti Niente caro Un'azienda gratis all'Aquarium No all'Aquarium All'Aquarium non vuole andare All'Aquariums are festering prisons of iniquity But I've got to write an article for the paper Can't you make an exception this time? For me? No 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 Oh Oh Groceries We need to go to the grocery store We need things like Cereal for the kids Right kids? We already have cereal So much cereal Then it's settled We're all going to the grocery store We need to go We need to go I want sports Johnson cereal Pizza Soda Chocolate Milk And I want apple Ed eccoci qua ragazzi Andiamo 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 Il supermercato Gervisons has revolutionized the modern shopping experience E ragazzi io devo concludere qua il video Se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace Lasciate e iscrivetevi al mio canale E a presto dal vostro bt64 Ciao ragazzi Ma che sto volando